Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show, oggi show numero 251, Giorgione, siamo tornati insieme, io e il Maranga per parlare di Vela Vela, per parlare di Paolo Simeon, ex ciclista professionista che sarà uno dei quattro cycler di Luna Rossa Iniziamo lo show Lead Story Oggi parliamo della recente notizia che ha per protagonista Paolo Simeon, classe 92, 7 stagioni nel ciclismo professionistico Corridore molto veloce, molto forte anche a lanciare gli sprint, ha fatto 6 stagioni con il gruppo Bardiani L'ultima stagione ha corso nel team di Giuliani, di un grande Monzon e l'anno prima doveva correre in una squadra cinese Poi è stato l'anno del covid purtroppo e non se ne è fatto niente, ha perso un anno La cosa che è curiosa è che lui appena vide che Luna Rossa cercava ciclisti, ne avevamo parlato anche noi in uno show, mandò subito una mail Sì, mandò un'email e Paolo ha le caratteristiche perfette per fare questo lavoro Essenzialmente il lavoro che si facevano prima con le mani, con quelle manovelle, non so del giro tecnico come si chiamano Siamo un po' neofiti Siamo neofiti, siamo fatti nella cultura, tra l'altro abbiamo anche scoperto che le barche a vela possono andare più veloci del vento Io da appassionato di fisica non è possibile, è una cosa che va contro la conservazione dell'energia Un'ora di dibattito che non c'entrava niente con il lavoro di Simeone, però volevo capire come faceva una barca a vela andare più veloce del vento E' molto controintuitivo ma lo può fare, soprattutto quelle di ultima generazione che non toccano l'acqua con lo scafo E a parte questo, il lavoro di Simeone insieme ad altri tre ciclisti o comunque persone che pedaleranno, che non sono proprio ciclisti Lui è un ciclista ma gli altri non sono ex ciclisti, deve essenzialmente muovere dei motori idraulici che alzano, abbassano le vele, girano cose, non abbiamo capito bene Prima si faceva con le mani, la federazione vele, non so come si chiama, ha deciso di che si potesse fare No, no, io ho scoperto recentemente che chi vince la rimbarcazione e chi vince la Coppa America decide la tecnologia e le regole di quella successiva Quindi è possibile che nella prossima e nella successiva cammini ancora Quindi perde il lavoro, già così, lo hai messo in conto Sì, sì, è così, non lo sapevo Però è interessante, tu questa notizia la sapevi già da un po' di mesi, non potevi dire nulla Sì, io ho incontrato Paolo alla vigilia della Milano Sanremo perché lui lavorava per RCS come regolatore in moto E mi aveva appunto raccontato di questa sua nuova avventura, ovviamente era tutto top secret, doveva aspettare ottobre per dare poi la conferma Perché poi l'ufficio stampa di Luna Rossa ha deciso di rendere pubblica questa notizia la settimana scorsa E quindi lui mi raccontava, mi diceva che era molto emozionato perché già si era mosso per trovare un appartamento in Sardegna Perché lui sarà stipendiato per un paio d'anni, lui già lavorava per loro, adesso è ufficiale, però per un paio d'anni stipendiato proprio da Luna Rossa La cosa che mi ha fatto molto sorridere nella sua intervista che ha fatto alla Gazzetta è la mia prima volta in barca è stata con Luna Rossa Come prendere la patente automobilistica guidando una Ferrari? E beh, sì, è stato emozionante e impressionante anche perché il suo ruolo poi non ha a che fare molto con la via Senzamente lui deve pedalare quando gli diranno di pedalare oppure anche altre cose da fare Perché vedendo il allenamento che fa ci sono un po' di cose particolari Infatti io ci ho parlato al telefono domenica scorsa e mi ha detto che la sua giornata tipo è fatta di bicicletta massimo tre ore Perché pedalano al massimo tre ore e tre ore e mezza Anche perché la prova dura 30 minuti circa Esatto, gli sforzi sono molto brevi Ovviamente poi ci sono lavori specifici come 40-20, interval training, anche critical power, vuol dire fanno anche dei 10-20 minuti a tutta, a cannone E poi c'è anche la parte acquatica, cioè nuoto ma soprattutto esercizi di salvamento Quindi nel caso dovesse succedere un incidente in mare devono salvare qualcuno, devono essere nati anche per questo Quindi gli fa, non so, spostare un kettlebell da 10-20 kg da fondo pescino Sott'acqua Sott'acqua lo deve portare su durissimo Fa anche apnea perché immaginiamo una barca che si ribalta e magari viene incastrato sotto Infatti era tra le cose che deve sviluppare Dove sviluppare tra degli allenamenti Quindi pedalare sì ma proprio in un altro contesto, in un altro mondo con altre regole, altre esigenze In più c'è anche una formazione per quello che riguarda il sistemare problematiche che possono esserci durante la corsa Magari un incidente o qualcosa, un inconveniente, lui deve saperlo aggiustare Infatti la cosa bella che mi dice che a differenza di fare il ciclista Qui pedali, ti alleni, ti dedichi a 360 gradi sul fisico Però devi imparare anche ad aggiustare Quindi a mettere le mani su una barca, sui commenti che possono capitare Sarebbe piaciuto un lavoro di questo tipo, a me che piace smanettare Mi sarebbe piaciuto anche perché in questa disciplina In questa disciplina non bisogna essere leggeri Cioè che è uno dei grossi problemi del ciclismo Che bisogna essere potenti e leggeri, che bisogna essere potenti e basta Anzi, l'Una Rossa cercava gente sopra i 90 kg Sì, però la cosa che mi ha detto al telefono è che devi essere anche un pochino grasso Lì è ancora troppo muscoloso, ha troppi muscoli e fa fatica Però questa cosa non ho capito sinceramente perché Cioè se sono una questione di salvataggio che galleggi meglio Io penso che riguarda il sindrome, non abbiamo approfondito perché aveva pochissimo tempo Stava tra l'altro ritornando in Sardegna perché ha avuto un congedo di un giorno Per andare a un compleanno di un parente e quindi era di corsa Da quello che ho capito è per salvare qualcuno In caso di incidente, se sei troppo muscoli, sei 90 kg di muscoli Vai a fondo Sì, però basterebbe mettere un salvagentieri, quelli sottili sottili Non lo so, approfondiremo Anche perché ho intenzione di fargli una bella intervista Magari anche online Anche perché il discorso del contrapeso non so se ha molto senso Perché sì, se pesi di più puoi fare più contrapeso Ma alla fine ci sono quattro Immagino che siano due da una parte e due dall'altra dalla barca Non so quanto Cioè se tutti pesano 80, tutti pesano 90 Che differenza c'è? Nel senso Approfondiremo Forse ne avevano già alcuni da 90 e volevano fare il peso per non sbilanciare la barca Sicuramente qualcuno tra gli impattati che seguirà questo show Sarà più informato di noi a riguardo Magari posti o nei commenti Perché devono pesare più di 90 kg Comunque lui è contento Tra l'altro la sua compagna che riesce a lavorare in Smart Working Si è trasferita con lui Adesso si trasferiranno a marzo a Barcellona Quindi insomma sempre location di un certo livello Bello E quindi molto entusiasta di questa nuova avventura Noi lo seguiremo ovviamente Quando avremo la possibilità poi andremo anche a intervistarlo Oggi vogliamo parlarvi anche di altre notizie uscite questa settimana Una cosa molto curiosa è successa a Firenze Edoardo Semmola Che è caduto in bicicletta per conto proprio Con l'asfalto che era ancora bagnato Pioveva, pioveva, l'asfalto era viscido È scivolato, è caduto Ha successo a tanti insomma Si è rotto un braccio E da solo Non ha creato danno a nessuno e nessuna cosa E dopo Quando? Dopo un anno? Un anno? Più di un anno? Un anno e mezzo Ha tirato una multa da 100 euro perché non è riuscito a non cadere Questa è la motivazione della multa Non riusciva a conservare il costante controllo del veicolo cadendo così a terra Un verbale scritto senza neanche ricontrare la forma corretta Con una multa che risultava raddoppiata da 50 a 100 euro Giorgione gli hanno fatto la multa per essere caduto in bicicletta E si è fatto anche male E si è fatto male Tra l'altro lui non aveva intenzione di fare causa al comune Non aveva intenzione neanche di cadere secondo me No, però magari alcuni in passato hanno fatto causa al comune Perché magari per le buche sulla strada Quindi asfalto sconnesso che gli ha prodotti poi a cadere Non è la sua intenzione Quindi il comune per tutelare Se metti che questo vuole farsi causa Giochiamo ad anticipo Una bella moltina Solo in Italia Però giocare ad anticipo C'è che senso ha? Se uno magari gli dice Vabbè fa niente Non faccio causa al comune per la buca Adesso che gli fai una multa di questo tipo L'obbliga a prendere un avvocato per principio Per andare contro questa sanzione A quel punto gliela farei veramente causa al comune Nel senso Sì no no È proprio una cosa brutta Una porcata all'italiana Se vogliamo dirla tutta Invece parlando sempre di amministrazioni comunali Ma in questo caso è una cosa secondo noi molto positiva A Milano l'area del centro sarà proibita alle automobili Quindi si potrà circolare soltanto con i mezzi pubblici Le biciclette a piedi Ovviamente immagino i residenti potranno comunque usare la macchina Perché voglio dire Se no ti devi comprare un garage fuori Milano Solo per chi viene da fuori Però si limita tutto il traffico Si limita tutto il traffico di quelli che vogliono andare dentro Per forza dentro in centro Milano Lasciare la macchina da qualche parte Non ci sono neanche parcheggi Per andare a fare il shopping di lusso In questo modo tutte queste persone vengono Se cominci a farlo Milano chissà che anche le altre grandi città d'Italia Non adottino questa soluzione Ho visto tanti commenti infuriati Assolutamente A parte di milanesi Perché già hanno trovato le criticità Ovviamente se piove Se c'è il diluvio universale Come facciamo Io penso che Si rinforza Nel momento in cui togli una grande quantità di macchine dalle strade Tu puoi migliorare molto la mobilità pubblica Se si pulmona arriveranno più facilmente in orario Ce ne potrai metterne di più Penso che il sindaco Sala e il suo entourage abbiano pensato anche E poi quando non piove Finalmente potrebbe diventare una zona ciclabile vera Ma magari Comunque non sarà una zona traffico Frenzi in senso i corrieri Immagino che entreranno e usciranno comunque Non è che si può camminare in mezzo alla strada Però migliora molto la qualità della vita Diminuisce probabilmente anche un po' di inquinamento Perché probabilmente si usano un po' di macchine Incidenti Insomma tante cose positive E si deve iniziare da qui Non si può promuovere solo la mobilità sostenibile Senza diminuire anche la quantità di auto circolanti Non andare di pari passo le cose Qualche sacrificio sei costretto a farlo comunque Non puoi pretendere di cambiare radicalmente le cose Per andare ad apportare un miglioramento alla città Senza qualche sacrificio Si è visto in esperimenti fatti Svolto in nord Europa Il più recente è quello di Bruxelles Che nonostante la non felicità iniziale I dubbi iniziali su questa cosa Si è visto poi che la qualità della vita è migliorata Le persone sono più felici di come funzionano Non possono neanche prendersela con il fatto che Milano c'è la salita Come fai poi È tutto piatto Poi se proprio avete problemi Esistono lay bike Esistono I monopattini portavano a circolare Sì Certo Monopattini Bici Ragazzi non lo so Io vedo più Se fai una colonna Con i pro e i contro Ci sono più pro No ma io vedo Chi Nel 2023 Prima di questa norma Entra in macchina in centro a Milano Cioè Qual è la persona tipo Che non vive lì E ci entra con la macchina Anche perché se provi in tre Ti avrebbero Una Una caterva di monte No ma a parte quello Devi pagare l'area C Devi pagare un sacco di cose Lo fa solo La persona Veramente Il baucia con la Lamborghini Che vuole andare a fare shopping In via della spiga Nel senso Chi altro Gli viene la malsana idea Di entrare con una macchina Dentro Milano Senza abitarci Senza viverci Senza niente No no Infatti io Tanto che passo da Milano Anche senza Becchi multe Sì sì Mi arriva sempre Una persona abbonata Quindi Io ho un brutto rapporto Con Milano Quindi non mi esprimo Più di tanto Però magari Qualche milanese Che ci segue Ci dirà la sua Nei commenti Sì Perché magari è giusto Anche sentire L'opinione di chi si vive Chiudiamo Viste e flash Con quella di Sonny Colbrelli Che a partire dal 2024 Sarà il nuovo direttore sportivo Del team Bahrain Quindi dovrà fare Questo in via Probabilmente il corso UCI Per diventare Direttore sportivo Lo ha fatto Lo stava già facendo E comunque Già collaborava Con lo staff tecnico Quest'anno Si è applicato Dedicato La parte ambassador Quindi In rappresentanza Del team Lo abbiamo sempre visto presente Però Il prossimo Sarà veramente Un direttore sportivo Quindi Vi facciamo un grande In bocca al lupo E Niente Vai Sonny Continua così Annunciamo i vincitori Della Enervid Competition Che sono Gianluigi De Martini Vincenzo Mansueto E Marco De Ambrosis Questa settimana Su GCN Plus Potete vedere La presentazione Del Tour de France Sia maschile Che femminile Il 25 ottobre Il 28 ci sarà Sia a Cross Country Nei Sieti Uniti A Falmouth Il Super Prestige A Rudd & Vorde E anche Lucy Track Champions League Che continua Con la sua seconda Seconda Tappa A Berlino Mentre il 29 ottobre Ci sarà Il Criterium Di Singapore Mentre su GCN Plus Esce Un nuovo docufilm Che ha per protagonisti I fotografi Il film si chiama Behind the Lens Dietro le Lenti Giro d'Italia E praticamente Sono stati GCN ha seguito Ashley Jared Gruber Luca Bettini E Zach Williams Al Giro d'Italia 2023 Per vedere Come si muovono E come lavorano Dietro a una grande corsa Come il Giro d'Italia Tra l'altro Io a San Juan Sono stato in compagnia Tantissimo Di Roberto Bettini Il papà Di Luca Grandissimo Personaggio Un personaggio Unico E per scherzare Dicevo Cavolo Serena bello Fare uno speciale Sui fotografi Perché c'è un mondo Da raccontare Tra l'altro Roberto Lo fa da Più di 40 anni Quindi ha viste Di cotte Di culi Infatti ogni sera A tavola Raccontava un aneddoto Diverso Super divertente Quindi Bello Sicuramente Molto interessante Come docufilm Lo trovate ovviamente Su GCN Plus Mentre Qui su GCN Italia Questa settimana Cosa potranno Vedere i nostri Impattati Vedere la BNC Il prototipo Di Ben O'Connor Quella che ha utilizzato La Tour de France La vedremo nel dettaglio Poi una puntata sabato Dove spiegheremo Come leggere i dati Strava Quindi come andare a spiare I vattaggi dei professionisti Trovare anche L'FTP di Ganna Siamo riusciti a trovarla Mentre domenico Scirà un video In bicicletta Dove testeremo La posizione Sulle manopole Classico Quella con le manopole All'interno Come usare in Faremo un'analisi Di questa posizione Insomma Lanciata Nel mainstream Ciclistico Da Renko Ebenepul Nel 2019 Video Che interesserà molto Quelli che sono un po' Sulla bici Molto racing Molto racing Comunque stavo già ridendo Perché ho visto La vignetta di Gandolfo Per sondaggio Che non c'è mai stato Sondaggio ci sia Vorresti vedere Giorgione allenarsi In Maranga Che lo allena No 2% Sì 98% Il risultato Sono ipotetico Cioè Sì La lettera di Giorgione Per Maranga Dimissioni Come se io fossi un capo Sondaggio di questo tipo Vorrei dire Che gli quanti dati sono Giorgione che se ne va Sì sì va bene Ma vuol dire Che sono sia sadici Perché mi vogliono male Ma anche masochisti Perché vogliono che tu Giorgione gli spieghi Come si preparano All'inverno le persone Non ti preoccupare Magari Si fanno del male Ma che ne sai Ma magari guarda Che io Con la mia esperienza Che ne sai Magari faccio anche del bene Che ne sai Giorgione Proviamo Vogliamo provare No Cioè io comunque Diciamo che qualche Qualche annata agonistica L'ho fatta Mi sono allenato E però sarebbe curioso Vedere magari Una cosa del genere Però se ti sentirei Vai Giorgione Non si può fare Come dice Gambolfo Pedalerò Pedalerò Anch'io sicuramente Farò qualcosa Sui rulli Così in inverno Ho anche voglia di farlo Ma è un periodo difficile La mia vita questo Mi hai già detto più volte Passiamo un video Per parlare del periodo difficile Alla fine di tutto questo Faremo un video Per parlare del periodo difficile Quando salirai in forma Quando arriverà il momento Raconterai Come mai Cosa hai vissuto Ok Andiamo Gente Farò che meno Brambo che fa cose Gente che fa cose Allora Ci scrive Riccardo Ciao Anno e Giorgio Sono un appassionato E seguo sempre La vostra trasmissione Innanzitutto Complimenti per quello che fate Perché date spazio Ad un mondo Quello del ciclismo Con occhio nuovo Affrontando tematiche Di cui normalmente non si discute Vi scrivo per la rubrica Senti che fa cose Perché mi sono trovato Molto in sintonia Con alcune delle iniziative Di cui avete parlato E fatte da alcuni Mie colleghi ciclamatori E ad aprile scorso Ho creato un'iniziativa Di raccolta fondi Per AI L'associazione italiana Per la lotta Le ocemie E mielomi Associandola al brevetto Del grappa Un contest non competitivo Che offre la possibilità In ciclamatori Di scalare I dieci versanti Del monte grappa Ho intrapreso questo progetto Che ho chiamato Dieci salite per la vita Che terminerà Il 31 ottobre Del quale ho creato Una pagina sul sito Internet dell'associazione stessa Poi metteremo il link Lo scopro è quello Di scalare Tutti i dieci versanti Del grappa Per raccogliere Più fondi possibili Che devolverò A questa associazione Per sostenere Il nuovo progetto Di ricerca Triennale Ho percorso Più o meno 700 km E ho preparato Per circa 20.000 metri Di dislivello In poco meno Di 4 mesi Alcune volte In solitaria Mentre altre Sono stato accompagnato Da amici Che mi hanno seguito In questa pazia Ogni salita per me È stata un'esperienza unica Fatta anche di divertimento Poi vi leggo Alcune foto Delle salite Se qualcuno Fosse interessato A tutti i dettagli Del mio progetto Perché l'ha fatto E come devolverò I fondi raccolti Vi mando sotto il link Della pagina Adesso metteremo anche In descrizione Finora ho raccolto Già 1200 euro Mancherò ancora Una ventina di giorni A scadenza Quindi se volete contribuire Trovate Fare fatica Per un motivo Per una ragione Per fare del bene Giorgione Capito? Appunto Nel mio caso Se vuoi far del bene Vuoi far 10 volt 10 versanti Le grappe A partire da domani Pensiamo a fare i rulli Per del bene Andiamo avanti I tuoi commenti Andiamo con la canale Che ho letto Con i vostri commenti Iniziando con Maxcom Perché Anna Il viaggio di nozze L'ha fatto su Watopia? Ha fatto il viaggio di nozze No perché in realtà Abbiamo registrato Il video che è uscito ieri È stato registrato Primo giorno di rientro Del Maranga Quindi la gente ha visto Che tu Mentre eri ancora in viaggio Pensavano Eri già su Watopia A scassarti di robe In realtà Era il primo giorno di lavoro Mercoledì scorso Questo congedo Per staccare Per staccare un po' Watopia non è proprio La location migliore Per fare i viaggi di nozze Sarebbe bello Se si stesse Un bel posto A 400 Watt Con gli avvoltoi Che ti girano sopra la testa Come è successo Quando facevo l'Uber Pressel C'erano gli avvoltoi Sopra la testa Che vedevano Sto cadavere Che si muoveva Profumavi di buono Non è il massimo Però no dai Sono tornato Comunque se Non so Magari qualcuno dispiacerà Però Non so Perché dispiacerà? Non so Magari sono abituati Leggi Wolfango Spaccarelli Che vince il premio Come miglior nome dell'anno Wolfango Spaccarelli Da quello che mi risulta FTP e Soghi Dovrebbero essere la stessa cosa Come mai Quindi io Che ho un FTP Misurato attorno A 230-140 Watt Quando programmo Gli esercizi Sulla bike da palestra Devo inserire 300-320 Watt Per fare un allenamento Giusto per me FTP e Soghi Sì Sono cose Sono due concetti diversi Che riportano però Numeri molto molto Simili A livello di potenza E il fatto che tu Devi inserire potenze diverse Dalla bicicletta da palestra Semplicemente perché Ha una misura Della potenza Diversa rispetto a quella Su cui hai fatto il tuo test FTP Cosa molto probabile Quando si utilizzano Macchinari Insomma Più legati alle masse Per fare fitness Più che Per reali strumentazioni Scientistiche Sono un po' Tatto al chilo Si può stare Non c'entra sul fatto Che FTP Sono tarature diverse Dottor Francesco Melandri E' un dottore Che ci scrive Potete spiegare O fare un video Su come posizionare Due selle diverse Allo stesso modo Bisogna controllare Solo altezza e distanza Della manubrio Del centro anatomico Della sella Penso sarebbe molto utile In caso uno voglia Cambiare la propria sella Con un'altra Senza modificare Però l'impostazione Biomeccanica La risposta Più Più completa Sarebbe che non si può Bisogna rifare Un bike fitting Quando si cambia sella Se una sella Ovviamente di un modello Diverso Una forma diversa La cosa che si avvicina Di più A fare questa cosa E' Prendere il punto Un punto in larghezza Della sella Che può essere 7-7 cm e mezzo 8 cm Dipende dai punti di vista E lo utilizza Come punto di repere Per le misure E di lì Si fa combaciare Sia l'arretramento Dal manubrio O da uno stipito Di una porta Da un piombo Sia l'altezza sella E non ci ho fatto un video E poi bisogna stare Molto attenti All'inclinazione Che sia la stessa Però se cambia sella Una più wave Meno wave L'inclinazione Può essere diversa L'imbottitura Più o meno marcata Può far sì Che la sella Sia più alta Più bassa Si cambia qualche millimetro Il fatto che sia Curved oppure piatta Cambia l'altezza Delle osse schiatriche Quando ci si appoggia Quindi può essere più alto Poi sono le selle Che sono un abballamento Sì sì Ma hai visto lateralmente Ma hai fatto un video Su No perché secondo me Non è una cosa sensata Riportare le stesse misure Quando si cambia una sella Bisogna rivedere Proprio la posizione Non la vedo come una cosa Molto intelligente Soprattutto se sei sensibile Se non si sente niente Cioè Butta la su e basta Però se sei sensibile E non vale neanche la pena Dire ok Non tocco reggi sella Cambio solo la sella Controllo l'altrezza L'altezza non la cambio No perché sono selle Che hanno una distanza Tra il punto di appoggio E il rail Diverso rispetto ad altri Quindi cambia anche l'altezza Bisogna alzare e abbassare Posso dire che ero Molto più sensibile Quando andavo in bici Per lavoro Cioè ero in bici tutti i giorni Facevo 30.000 km all'anno Adesso Se scambio la sella Non guardo Tutti questi piccoli dettagli Non sento quasi Perché forse Non ho mai delle belle sensazioni In bici Perché non sono allenato Sempre al top E quindi Quindi prima Se cambiavi posizione Sentivi bene e male Stavi bene Stavi male Adesso senti solo male Sì mi sono andato tanto A me sembra andare sempre piano Veramente Cioè per quanto Posso Ma di schiena Ce l'hai sempre Ma di schiena Però non so Sempre un po' Mezzo e mezzo Per carità Per alcuni esseri Il mio mezzo e mezzo Sarebbe già oro Per carità Non sto voglio di niente Però Non sento Deste grosse È così È così Andrea Malaspina Perché atleti come Atleti come Evenepul e Van Aert Potrebbero ottenere buoni risultati su pista A voglia Dipende dove Le discipline di Endurance Evenepul Non sono in seguimento individuale Potrebbe fare concorrenza A Ganna Tranquillamente Sì In seguimento individuale Sì Van Aert Bene sia per l'individuale Ma anche a quartetto Van Aert è il prototipo dell'uomo Giusto per il quartetto Perché fare il corso a punti Lì però devi cominciare a saperlo fare Beh Non so se è capace di fare Non è così facile fare una corsa a punti A livello tecnico A livello di motore certo No penso che a livello di motore A livello fisico A livello fisico Assolutamente sì Diciamo che il quartetto di seguimento A livello tecnico Sono quelle meno esigenti Quartetto già un po' di più In seguimento individuale Veramente Non di saper far nulla In seguimento squadra In seguimento squadra È più tecnico Però una volta che si adattano Fanno un anno di pista Questi possono andare Tranquillamente A giocarsi La medaglia mondiale Sì Cioè dai La verità è questa Meggiato Ma una delle cause Di non avere uomini Da grandi giri In Italia A livello di Pogacar o Winger Questo è molto provocatore Attenzione Molto interessante Quindi a livello di Pogacar o Winger Può essere attribuita Anche al fatto Che un atleta italiano Non può utilizzare La camera ipobarica Durante la preparazione invernale E non Sì In grado di essere Come Pogacar e Winger Anche con la camera ipobarica In questo momento Nel senso C'è qualcun in Italia Che attualmente Può essere come loro Se andasse in tenda No No Perché non era uno Che arriva dal quinto Anche perché In classifica di un grande giro Non è che Sotto al podio Non c'è nessuno Però A parità Comunque Di Facciamo finta Che Pogacar Fosse Sei italiano Sì E non può usare La camera ipobarica Cioè Da con Winger Già le prende Al tour Certo Pensa se Winger può fare La tenda ipobarica E Pogacar no Sì Infatti In quel caso lì sì Nel momento attuale No A livello assoluto Però sì Infatti Questa è una delle cose Che secondo me Non hanno veramente Senso di esistere Cioè Non esiste che Una federazione O conies Non lo so Comunque una cosa Legata a una nazione Stabilisca leggi Antidoppi Più restrittive Di quelle della Vada Perché penalizza I propri atleti Poi Pinotti Quando l'ho invitato In studio Mi diceva che comunque Quello che fa meglio È sempre l'altura Vera e propria La tenda la fanno Capito Però non Oddio Quello che ha detto lui Cioè Deve dire anche L'aspetto psicologico Però Di stare in altura Un sacco di mesi Quando potresti magari Metà di questi Passarli in una casa Ipobarica Come addirittura Si potrebbe costruire Perché c'è i soldi Ma io comunque Credo che tutti I top rider Passano tutti Ma certo Si può fare Perché non devi farlo Fa anche bene alla salute Vado a dire Aumenti Il livello di emoglobina Ti permette di resistere meglio Agli sforzi e lo stress Che hai durante Poi le competizioni Poi pensare Magari con tua moglie Fai le tue cosine Recuperi Come hai finito Recuperi La tua tendina epobarica Ma non è che migliora La tendina epobarica Migliora i livelli matici Poi lungo andare Comunque con tua moglie Senza che stai lontano da casa Tre settimane Da solo Appunto A livello psicologico Decisamente migliora La situazione Sondaggio della settimana Allora Pensi che la squadra italiana Su pista Possa migliorarsi Otteriormente Ma passi 68 ha detto Si sono giovani Fortissimi 24 possono provare A restare su questi livelli No ormai Hanno raggiunto Il loro punto massimo Non saprei Però diciamo che La maggior parte Ci crede Ci crede Novo sondaggio Sei d'accordo Sull'ipotesi di chiudere I centricità Al traffico privato Pienamente d'accordo Per niente d'accordo Sono d'accordo Ma credo sia complicato Da realizzare Quindi ci credi Ma non troppo Insomma No Realizzare è semplice Lo vieti Realizzare nel senso A livello politico Che le persone accettino Questa cosa E votino ancora Il sindaco La paura Che magari Ti possono fare Delle proteste Per strada Creare disagi Insomma Non è facile In Italia ragazzi Non è facile Però bisogna partire Perché così Bisogna iniziare Ne muoiono troppi Che c'è un challenge Alla sfida Poliziesca 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 Perché Qui c'è un gendarme E quel che non era Non c'era La sua precedente In realtà Era tipo Un qualcuno Che stava a sorvegliare Il palco firma Di una gara C'era lì Questo qui Che faceva salire La gente Così Ma non so Se ha reali funzioni Di qualche tipo Allora Vincere è Cosimo Damiano Giorgio Mangin Non parlo più lungo Il tuo nome Controllore Favorisca Nome Cognome Che ne faccia Una contravvenzione E cocardi C'è Aieie Brothers Classico Grande città Ma comunque Aldo, Giorgio e Giacomo Vengono citati Costantemente Anche nonostante Le gag Siano diventati Beh hanno Hanno rivoluzionato La comicità In Italia L'hanno portata Veramente A una massa Comici di culto Sono limitati di cult Eh sì Ci sta giusto Leggende viventi Grandi Vabbè Andiamo avanti Andiamo alla foto Di questa settimana Allora qui siamo To the lane Qui abbiamo Sepeda E Michael Storer Che se la giocano Allo sprint Due grandi velocisti Due grandi velocisti Io ti giuro Non ho visto Io sono andato a cercare Non l'ho trovato Quello sprint Ma vuoi capire Cosa è successo Io l'ho visto Si sono rotati Cioè Si sono toccati Una spallatina No praticamente Storer si è appoggiato Sepeda si è spostato Storer non ha più avuto Il punto d'appoggio E è andato giù Perché miseria Ma c'è tutta la strada Cioè non è una volata di group No Vabbè Sono scalatori Quindi ci può succedere Però posso dire Che durante i training camp Almeno durante l'inverno Si dovrebbe insegnare A scalatori A fare volate Perché tante volte Arrivano a giocarsi vittorie Anche importanti E fanno delle robe ridicole O il colpo di reni Dopo l'arrivo Fanno piccole cose O lasciare la porta aperta Quando lanci lo sprint Lasciare passare La Che a fine Anche gli scalatori Può capitare Di giocarsi Delle Ah voi Ma certo Una liegi A fine se la giocano Un volata Da scalatori Portare uno Troppo fermo Allo sprint Ce ne sono tante cose tecniche Che dovrebbero sapere Però non fanno Secondo me Le decisioni Ma anche utilizzando video Cioè per esempio Dieci volate Lo fanno inverno Poi si dimenticano Durante Tutte le line A metà stagione Io non so Sono curioso Di sapere Se magari qualche squadra Fa Anderebbe un po' curata Sta cosa Siamo arrivati Alla fine Dello show Giorgione Fine dello show Fine dello show Commentate ovviamente La caption Con l'hashtag Caption Challenge Per vincere la borraccia Iscrivetevi al canale Se l'avete ancora fatto E mettete il like A questo video Adesso c'è la prossima puntata Ciao Ciao Ciao